Buongiorno. Mi sentite? No, sì o no? Sì, adesso sì. Poco, dicono. Adesso mi sentirete, abbiamo fatto le prove, sentiva bene, adesso mi sento anch'io, mi sentite, me l'ho confermato. Sono molto contento di venire, è un sacco di tempo che io vengo a Torino, a Torino Spiritualità e al Circo dei Lettori, in questo bellissimo teatro non ne ero mai stato, perché è un sacco di tempo che io vado in giro. L'altro giorno ero a Modena, una signora mi ha fermato e mi ha detto, ma lei è Paolo Nori? E l'ho detto, sì. E lei mi ha detto, io la seguo da tantissimo tempo, da 50 anni la seguo. E l'ho detto, signore, io, cioè 50 anni fa avevo 10 anni. Però, insomma, questa cosa, insomma, la cosa di cui parliamo stasera è una cosa che si avvicina, ecco, anche per me, che ormai quest'anno ho compiuto 60 anni. Ed è un tema che a me piace molto, la morte è un tema che mi piace molto e ho pensato che le ultime due volte, o insomma due delle volte che sono venuto a Torino Spiritualità, due interventi che ho fatto avrei potuto farli anche quest'anno. L'anno scorso il tema era la pelle, io ho parlato di un incidente che ho avuto nel 99, quando mi sono ustionato, e di un altro incidente che ho avuto nel 2013, che mi hanno investito. Ho subito un trauma cranico e il titolo dell'incontro l'anno scorso era lo stesso titolo di un podcast che è uscito pochi giorni fa, il 21 di settembre, ed era due volte che sono morto. Quindi sarebbe valso anche per le edizioni di quest'anno. E poi una cosa memorabile che ho fatto per me al Festival Torino Spiritualità è una lettura della morte di Van Ilic al cimitero monumentale di Torino, una lettura integrale. Non mi ricordo che tema c'era quell'anno, ma mi ricordo che è stato il primo anno che come sponsor collaborava a un'agenzia di pompe funebri che ha sponsorizzato il mio intervento ed erano molto contenti alla fine del mio intervento. E la cosa mi piace anche perché la morte è un tabù, facciamo fatica a pronunciarle, no? Con certe parole. Però io, che mi occupo di letteratura, è la storia forse principale. C'è un mio amico che ha scritto un libro, il primo libro, si chiama Ugo Cornia, è uno scrittore di Modena. Il suo primo libro pubblicato da Sellerio come libro che leggiamo stasera e approfitto per ringraziare Sellerio per averci dato l'autorizzazione a leggerlo. Il suo primo libro è un romanzo nel quale Ugo racconta un po' la morte di suo babbo e di sua mamma che sono morti quando lui aveva poco meno di trent'anni, uno dopo l'altro, nel giro di pochi mesi. È un libro bellissimo, comico anche, commovente, pieno di grazia. E io mi ricordo quando ero a casa di Ugo, a Modena, e ho visto il dattilo scritto, prima che lui li stampava per mandarle alle case editrici. E aveva un titolo, il primo titolo che ha dato Ugo, Tra un po' saremo tutti morti. Che per me è un titolo... Io quando l'ho visto ho detto ma è vero. Tra un po' saremo tutti... Cioè tra poche decine di anni noi tutti che siamo questa sera saremo morti. E non è un pensiero brutto, secondo me. Io mi ricordo fin da quando facevo l'università, quei versi di Metastasio che dicono non è vero che sia la morte il peggior di tutti i mali, è un sollievo per i mortali che sono stanchi di soffrire. E a me era un po' dispiaciuto che quando il libro di Ugo era arrivato in casa editrice era piaciuto moltissimo a Sellerio e ai suoi collaboratori, ma non lo chiamavano mai per nome perché c'era la morte nel titolo. E quindi gli hanno detto, il libro guarda ci piace moltissimo ma bisognerebbe cambiare il titolo. E l'hanno intitolato Sulla felicità oltranza, che è un bel titolo, una frase che c'è dentro. Ma tra un po' saremo tutti morti. A me continua a sembrare un titolo più bello. E qualche anno dopo ci hanno chiesto sia a me che a Ugo di collaborare a una antologia che è uscita per Marcos i Marcos che era a cura di quei medici, della medicina palliativa. Sono quei medici che accompagnano, che curano i malati incurabili, che è un mestiere straordinario. E ci hanno chiesto due testi, noi gli abbiamo dati e al curatore di quell'antologia gli abbiamo detto, abbiamo noi il titolo? Il titolo è tra un po' saremo tutti morti. E lui ha detto, bellissimo, così. Quando siamo andati alla presentazione del libro, alla Biblioteca Delfini di Modena, abbiamo visto che ci avevano cambiato ancora il titolo. E l'avevano intitolato Storie di un giorno che sai. E io, quando sono andato sul palco a leggere il mio racconto, ho criticato, insomma, questa soluzione. Ho detto che, secondo me, un giorno che sai di Van Ilic non è un bel titolo. Oppure un giorno che sai a Venezia. A me mi piacciono di più i titoli. E quindi sono molto contento oggi di... Faccio i complimenti a Armando e al Circolo dei Lettori di aver scelto questo tema. E sono contento stasera di leggere questo testo insieme a Mirko Ghirardini. Quando mi hanno chiesto chi poteva venire a accompagnarmi, ho pensato a Mirko. Mirko, il maestro Ghirardini, insegna clarinetto, ha insegnato in vari conservatori. Adesso insegna al Conservatorio di Reggio Emilia. E suona domani. Mi ha raccontato alla prima di un'opera lirica al Teatro Donizetti di Bergamo, che è un'opera lirica su Raffaella Carrà. Io domani sera sono qua, ma mi piacerebbe molto venire a vedere questa cosa così insensata. Un po' come la cosa che facciamo stasera. Perché sono... Vedrete. E lui, che ha questa formazione classica, che suona alla scala, che suona in tutti i più grandi orchestre nazionali, ha però una passione. Lui vive a Barco, in provincia di Reggio Emilia, che è, insieme alla provincia di Parma, uno dei... Ho imparato da lui delle culle del liscio, della musica liscio. E lui ha messo insieme un'orchestra di suonatori di liscio delle origini, che erano tutti pezzi fatti coi fiati. E l'orchestra, si chiama orchestra fiato lusignolo, e sono l'equivalente delle orchestre balcaniche. E sono orchestre da matrimoni e da funerali. Quindi ho pensato che Mirko... Insomma, a Mirko sarebbe piaciuta, ecco, questo invito. Infatti stasera siamo qua. Il testo che leggiamo è un testo che non è vecchio come me, ma ha degli anni anche lui, ha 31 anni. La prima edizione è uscita nel 1992, è un long seller, come si dice, ed è una raccolta di testamenti olografi. Io ho capito il significato dei testamenti olografi leggendo questo libro. Cioè sono testamenti scritti di mano dal morto, ecco, da quello che poi è morto, e ho scoperto che valgono come un atto notarile. Cioè sono... Se è dimostrato che li ha scritti lui, valgono... È come se fosse andato dal notaio. Infatti sentirete che qualcuno dice... Faccio così, così, Sparambio il notaio, che significa risparmio il notaio. E sono il curatore, Salvatore De Matteis, è un notaio napoletano che, essendo testi che provocano delle conseguenze legali, vanno conservati. Quindi ci sono dei repertori dei testamenti dai quali De Matteis ha scelto questi testi qui. Poi ha fatto altri due libri, ma questo a me sembra il più riuscito, ecco, dei tre libri che conosco di De Matteis. E sono dei testi singolarissimi, perché c'è l'ufficialità, cioè il testamento è un testo ufficiale, ecco, del testamento, però c'è anche la... c'è l'incapacità di quelli che, della maggior parte, di adeguarsi a questo tono ufficiale. C'è uno che scrive il suo testamento a mezzogiorno, scusate, il 15 di agosto, e dice in piena facoltà e in pieno ferragosto, come se fosse una cosa... quindi c'è questo contrasto tra... Io tengo da anni dei corsi di scrittura, dei seminari di scrittura, e i primi tre testi di questo libretto li uso come esempio di scritture memorabili, magistrali, ecco. e sono proprio tre piccoli capolavori, sono tre testi fantastici che si leggono con un piacere e la cosa che mi colpisce e che colpisce i partecipanti a questi seminari è il fatto che... cioè questi non sono testi scritti per essere belli, non sono testi letterari, eppure come testi letterari valgono tantissimo. Allora, ci siamo chiesti più volte di che cosa sono fatti questi testi qui e la risposta adesso ve la dico. Anticipo soltanto il fatto che così come non c'è questo contrasto tra la formalità dell'occasione e l'informalità dell'esecuzione, noi proveremo a trasporlo nella nostra... cioè non sarà una musica proprio da fune... non sarà una musica solenne, non sarà una relazione solenne, quella tra me e Mirko, ma sarà forse un po' scalcinata, come molti di questi te vedremo. Siamo molto curiosi di quello che salterà fuori. E... e dicevo, ci siamo chiesti di cosa sono fatti, perché sono così belli, quali sono gli ingredienti che hanno permesso a questi signori che non sono scrittori di professione di scrivere delle cose che a distanza di decenni da quando le ha scritte noi le leggiamo ancora. E siamo risposti che i due ingredienti principali sono l'urgenza e la disperazione. che si trovi che si trovi è una musica solenne che si trovi che si trovi di questo è un po' Essendo capace di intendere e di volere, a cura di Salvatore De Matteis, che ha fatto la scelta di questi testi pubblicati nel 1992 da Sellerio e che ha assegnato a ognuno di questi testamenti un titolo. E il primo titolo è Spiacente di avervi conosciuto. Ho scritto questo mio testamento la notte del 23 aprile 1954 alle ore 01, cioè praticamente il giorno 24 aprile 1954 mentre ero in servizio in clinica. Credo che questa data è significativa perché coincide col mio onomastico. Per la speciale ricorrenza di cui mai una volta vi siete ricordati, ho deciso di fare io a voi un regalo. Vi comunico di avervi diseredato. Ho infatti alienato gradualmente il mio patrimonio immobiliare e donato il danaro che ne ho ricavato. Mi auguro di avere tempo e abilità sufficiente per sottrarvi ciò che resta. Nel caso tuttavia che mi sopravvivessero dei beni, ne nomino beneficiario la clinica, sperando che conoscendo i nostri reciproci sentimenti, abbiate l'orgoglio e il buon gusto di non impugnare il presente testamento. Siete dunque sull'astrico e da qualche anno vivete al di sopra delle vostre possibilità. Quando ne sarete informati, sarà tardi per ogni rimedio e avrete finalmente un buon motivo per portarmi rancore per tutto il resto della vostra vita. Spiacente di avervi conosciuto. Mi auguro di non rivedervi mai più. Spiacente di avervi conosciuto. 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 Contro mia moglie Maria Cannavacciuolo, maritata a buon omo Gennaro, che sarei io. Se morirebbe prima mia moglie di me, sarei grato a San Gennaro, a ceri e fiori, fino a che campo? Ma lei si è sempre curata bene e schiatta di salute alla faccia mia che non c'è speranza, io credo. Approfitto della controla che sta stravaccata sopra il letto per scrivere nascostamente nel gabinetto su carta tipo igienica il mio lascito testamento di robe poche ma stentate. Col sudore della fronte per tutta una vita onesta ma sfortunata, che se si sveglia sono mazzate. Non avendo la infamona fatti i figli perché arida di panza e di cuore, lascio il basso di abitazione a mio nipote liberato, figlio di mio fratello Vittorino. A mia nipote Itala, sempre figlia di Vittorino, lascio per dote la mobiglia con la biancheria di corretto, l'anello mio, la catenina e il cornicello della buonanima del nonno. Non c'ho altro. Quando sarò morto dovete cercare il mio testamento qui presente dietro l'armadio. Se non lo cercate dietro l'armadio non lo trovate, allora è inutile che lo cercate. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 consiglio di peppe testamento lografo da me confezionato secondo consiglio legale di peppe a paglietta che se ha sbagliato l'affogo dall'aldilà morto e buono dice che essendo moribondo la mia volontà scritta a mano con la data e la firma vale pure con gli errori e sparambio il notaro però io mi fido e scrivo come posso in primis tutto ai miei figli e niente a mia moglie diciamola così che mai la voletti sposare e feci bene madre disamorata chissà dove sta in secundis legittima a Michele figlio legittima a Elena figlia legittima a Gaetano figlio dal loro caro padre estinto qui presente che gli ha riconosciuti al tribunale e li vuole bene come sanno interzis superchio a sorema e al soprastante peppe suo marito con onere di cura fino a morte fatte e esecue se muore peppe prima di me che mi pare possibile dato sì che sta scassato buono per vizi di gioventù il superchio va tutto a sorema con un onere di cura e di esecue come sopra in fundis mi raccomando le esecue non facciamo le solite figure di pezzente applausi 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 Grazie a tutti. 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 Era, signore di nobile famiglia, io sottoscritta a Meglia Vigorita, padre di famiglia, con la mia buona volontà assegno la proprietà ai miei figli maschi legittimi e femmine disponibili. Sottani e soprani di campagna, fabbricato di città, terra di paese, la montagna di montagna, li lascio come nella scrittura multipla già in accordo sottoscritto da ciascuno. La mia copia tal cui per garanzia. Qui dico solo certe precisazioni per evitare impicci. I mascoli devono riconoscere di aver avuto l'istruzione che costa, mentre le femmine sanno appena leggere e scrivere. Ma esse ci abbasterà come abbastò a me, perché sono sane, belle e a carne liscia. E poi i mascoli hanno avuto anche il corredo a sei pariglie di tutto uguale con le femmine, federe, lenzuola, asciugamani, mani e di decenza, mutande lunghe, mutande corte, magliette pesanti, magliette leggere, fazzolette, calze, calzini, sottoveste ricamate, camisse da notte e scazzette. Nessuno di loro figli ha diritto a lamentazione, perché ci sono stata madre e padre insieme con mille sacrifici. Anzi più padre del loro padre che ha scealacquato incurante. Dopo ho scritto. Però la buonanima era signore di nobile famiglia, per questo scarsamente capace nel lavoro qualunque. Assai onesto, buono e bello. Voglio e desidero perciò che, nonostante i figli lo ricordano con affetto e grande rispetto, perché li ha procreati dandoci una vita. Una famiglia è un nome importante che vale più di tutto. Grazie a tutti. Questa mattina alle ore cinque. Questa mattina alle ore cinque, in presenza dei signori Buglione, Michele e Di Falzo Nicola, indegenza nella mia medesima stanza di ospedale civile, è venuto un capogiro, quasi una specie di tocco. Ma in questo momento, ore sei, minuti tre, mi sento in piena facoltà mentale di poter esporre la mia intenzione, dei miei beni che posseggo io, Bruno S. Io ho sottoscritto, alle ore sei minuti e dieci, assegno a mia moglie, onesta e cara Maria Giuseppa, padronanza assoluta di tutto in vita durante. Solo dopo la sua morte sarà poi così diviso. Dispongo, alle ore sei e minuti tredici, che prima di tutto, tutto in massa si deve fare, lo faccio in o senza furbizia. Alle mie care figlie Titina e Antonia dico cacciate la dota di Correto. Al mio caro figlio Mario dico caccia la mobiglia e gli attrezzi che ti hai preso. Poi di tutto quanto ammassato e considerato, sempre dopo la morte di mia moglie, alle ore sei e quindici, dico, assegno un quarto a Antonio, un quarto a Titina e il resto per scrupolo di coscienza a Mario. Perché io sono pieno di debiti e Mario mi ha soccorso e mi soccorre. Solo lui. Adesso ammontano i debiti a quasi settecentomila lire, ma prima erano di più. Sono ora in possesso di un vaglia mandatomi da Mario in data ventisette corrento di lire duecentomila lire che se non faccio in tempo a dare allo strozzino perché muoio, saranno divisi come soproscritto. In caso però che la legge non ammette la padronanza assoluta a mia moglie come io ci tengo, esponerà la legge medesima, alle ore sei e minuti venti, di assegnare tutto quanto è possibile e corrispondente alla mia intenzione così fatta in decisione. Io affermo che tutto questo ho scritto in piena mentalità e di mio proprio pugno in questo momento ore sei e minuti ventitré ove termino con la mia firma alle ore sei e minuti ventiquattro circa. grazie a tutti Nato e vissuto qui. Io ho sottoscritto Monaco Ciro, 1908-1908. Nato e vissuto qui fino al giorno della mia morte. A testo con questo testamento a mia moglie Maria, 77-1907, del secondo letto, che le lascio l'affetto e tutta l'eredità. Padrone assoluta che se la può vendere o la può donare a chi essa vuole. Ma è meglio se non la vende e non la dona fino a che campa. Se no, come camperebbe? La signorina viveva nel basso con dieci fratelli e sorelle, i genitori suoi e quello di suo padre. Per dormire dovevano togliere il tavolo e per mangiare dovevano accattastare i letti. In caso di malattia i sani potevano mangiare solo freddo in piedi se ce n'era anche per loro. Insomma, erano persone brave e numerose, proprio come li preferisce la miseria nera. Io scrivo questo ricordo non per offesa alla famiglia o a lei, ma solo per non vendere. Altrimenti non campa, ritorna nel basso e io dove vado non la posso aiutare. Alla mia equamente amata moglie del primo letto, invece, ho già donato un loculo ben posizionato e la croce di lampadine perenne. Da essa invoco la forza del trapasso, come già Maria del secondo letto in fede, mi sta aiutando veramente molto a trapassare. Questa scrittura è fatta con le mie mani ed è valida a tutte le leggi italiane e forestiere. 17.4.987 Questa che ora vedete è la mia firma personale. Questa è la mia firma personale. Capace di testarmi Io ho sottoscritto Filippo Bardi fu Antonio, agricolo, figlio e nipote di agricoli, nato a Secondigliano, capace di testarmi. Della mia identità personale è certezza a me medesimo e a tutti che mi conoscono. La mia moglie Severino Concetta fu Michel Antonio, lascio dono e appadrono a vita l'usufrutto sulla mia proprietà per riconoscenza di affetto e divozione alla mia persona, per serietà di costume e portamento religioso da prima a dopo il matrimonio. Lascio a titolo di legittimo alle quattro ragazze Carmela, Maria, Annina e Antonietta, il fondo rustico in fondo con trada fossa dei lupi, già diviso dal geometro da me comandato in cinque parte. Al mio figlio maschio Giuseppe, detto fu Filippo, dopo che sarò morto, ci assegno precisamente la particella numero 90 con la casa rustica per alleviare il bestiame secondo la tradizione di famiglia. Noi bardi ci chiamiamo alleviatori di bestiame, però ce la capiamo bene anche con la terra, specie ortaggi e agrumi. In caso che le due ragazze nubili, Carmela e Maria, alla mia morte non si trovano maritate perché poco fanno per assomigliare alla loro santa madre, agli occhi della popolazione, hanno il diritto al corretto uguale alle altre già maritate e costumate, prendendo una somma equivalente su tutta la mia proprietà. In ultimo, mi raccomando, non date fastidio a Giuseppe Fumè, Filippo, vostro padre da voi tanto amato come spero, e non fate regalie al parroco che non ce n'ha bisogno. Filippo, non fate regalie al parroco che non ce n'ha bisogno. Filippo, non fate regalie al parroco che non ce n'ha bisogno. Se andrebbe a nuove nozze, testamento io di persona qui residente con la mia ultima volontà, e domiciliato. Assegno il totale usufrutto del terreno e del fabbricato di ricostruzione, tutt'altro in domicilio, alla mia cara moglie Eleonora in gallo vita sua durante, precisando un sentimento volontario. Se dopo la mia morte andrebbe a nuove nozze, perderebbe i diritti di quanto sopra ho scritto. Ai ragazzi vanno in parte uguali la proprietà del terreno strumentato e del fabbricato da strumentale, perché è sgarruppato dal terremoto in attesa di contributo. Desidero che venga rispettata la mia volontà senza eccezione. E qualora una delle mie figlie ribelle impugna il presente testamento, passa a sola quota di legittima. Desidero che le mie figlie non litigano e vanno pienamente in accordo tra esse e coi mascoli. Desidero ancora che i miei funerali avvengano con modestia e di coro. Preciso ancora un sentimento volontario. A mio figlio modestino, avendo troppe pendenze a suo carico, non assegno niente. Obbligo i fratelli al sostegno di mangiare e dormire fino al lavoro. Il lavoro lo trova presto, se no perde pure il sostegno. Vi voglio bene a tutti nel sentimento di libertà e di volontà che qui sottoscrivo. Questo testamento è stato scritto tutto di mio pugno nel prefabbricato di terremoto dove muoio di clima ostile e disagio. Ma di più di incazzatura per la indifferenza delle autorità civili, militari e religiose, specie comunali che si hanno rubato ai miliardi della gente e la salute è mia. Grazie a tutti. Per ricordo del mio amore, la sottoscrittà dal Gisa V, trovandosi allo stato in piene facoltà mentali, di chiara di lasciare il suo avere sulla terra passeggera. L'appartamento, buoni fruttiferi a lei intestati, alcuni libretti di risparmio sulla banca popolare, oggettistica con mobilia e preziosità, vanno divisi in parti uguali ai miei quattro figli nati dal primo e secondo letto, non avendo avuto figli dal terzo letto del quale sono ormai vedova da lunghi anni. Per segno di riconoscenza raccomando di dare un milione alla figlia della portiera per comprarsi un oggetto bello come lei e tenerselo per ricordo del mio amore, di tutta la compagnia e l'affetto che mi ha dato. Baci a tutti. Al mio caro nipote, Con questo mio testamento olografo, io, Veronica C., dichiaro e nomino mio erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili, il mio caro nipote, figlio di Costantino, in riconoscenza dell'affetto che mi ha voluto nei lunghi anni della nostra vita coniugale. Qui c'è una nota, verosimilmente ciascuno con la propria metà. Terrà cura del nome della proprietà consegnandola ai suoi eredi a memoria di me. Sulla lapide esprimerà i suoi sentimenti di amore e riconoscenza per me a lettere di bronzo e utilizzerà la foto che qui allego di quando ero un bocciuolo di bellezza e di serenità, come vedessi. Sulla lapide esprimerà i suoi sentimenti di amore e riconoscenza per me Il dramma è la morte. Io, Filippo Florindo Emanuele Bianchi, SDM, Barone di Nusco e Marchese dei Camaldoli, questo mio testamento spirituale dichiaro sorrendemente di morire soddisfatto della vita. La sorte mi ha concesso infatti di provare quanto di meglio e di più volgare esista nella ricchezza e nella povertà. Della prima ho chiari ricordi e qualche nostalgia. Della seconda non posso vantarmene, ma la pratico almeno da un decennio. Perciò mi appartiene e non la ripudio. Non credo ormai che sia meno peggio morire tra profumate lenzuole e finti pianti di eredi ansiosi, piuttosto che all'adiaccio tra zotici un po' commossi. Il dramma è la morte, la trista cicatrice di cui ride solo chi non l'ha sfiorata e che salda al lembo di una provenienza ignota, quello di una meta incerta. In fondo ho speso una vita e un patrimonio per ritardarla, corromperla, ricattarla in mille modi, sfidandola e sopravvivendo all'impossibile. Non mi restano che pochi spiccioli di sole, ma se ne avessi tanti giuro che li spenderei ancora così per esorcizzarla, per soddisfare il mio impunito, indomabile, vanesio, smisurato, orgoglio di vivere. La ricchezza si immagina, nessuno si sentirà mai ricco abbastanza così come quello stupido di mio fratello. E la povertà si può viverla perfino da ricco, miserabilmente giorno per giorno, come quel formidabile risparmiatore di mio zio. A noi invece, poveri, ricchi di spirito, lustrini e pidocchi sono estranei. Mostreremo fino alla fine il nostro sorriso smagliante o sdentato per nascondere generosamente a noi stessi e agli altri la trista consapevolezza che galleggia in fondo al cuore. La caducità, cioè, dell'essere contro la quale, fino alla fine, a fronte alta, lottiamo in vano la più gloriosa e disperata delle battaglie. Sono perciò particolarmente grato ai compagni degli ultimi miei due lustri di avermi aiutato a portare a termine la mia e a verificare la nobiltà della causa a cui ho praticamente ispirato almeno metà della mia breve ma intensa esistenza. Essi mi hanno evoluto sul piano delle risorse trasformandomi il loro incredibile ingegno e, bontaloro, mi hanno fatto recuperare per intero l'anima della natura e la conoscenza della mia componente animale che si aggirava ancora smarrita in un residuo labirinto di regole astratte e alienanti. E infine mi hanno fatto scoprire la gran forza e l'enorme intelligenza dei deboli cui i forti chiedono sempre più di quanto essi stessi siano in grado di dare. A loro dedico perciò questo mio testamento spirituale. Peccato però che siano così analfabeti che dovrò leggerglielo io e forse spiegarglielo. Ciò riduce non poco il fascino della indigenza, anche se esalta la mia condizione di meteora che ha attraversato, si è pure in discesa, tutti gli strati sociali e quindi anche loro, illuminandolo. Ordunque, miei unici cari, per i quali morirò tra breve, poiché per la mia famiglia sono già morto da almeno vent'anni, confesso innanzitutto che nel raccontarvi di me ho sempre un po' esagerato. L'ho fatto solo per meritare il vostro timore reverenziale e ogni altro immeritato riguardo. Incantandovi sembravano meno lunghe le notti gelide davanti al fuoco. Io non potevo che questo, regalare un brivido di stupore a voi che non potete, che non sapete, cui non conviene sognare, essendo così ignoranti, da essere quasi felici. E comprendere perché altri, tra mille agi, non riescono ad esserlo poiché non sanno mai d'esserlo. Non vi ho mai illuso di poter recuperare la perduta mia ricchezza e farvene partecipi. Io, infatti, non ho rimpianti se non d'affetti. Giuro che nella mia vita non ho, in fede, rovinato nessuna delle mille donne che ho amato, ne ho messo al mondo figli che non potevo mantenere. Non ho preso nulla a nessuno e ho lasciato che altri lo facessero a me. Non ho torti da farmi perdonare se non dal mio blasone che impallidisce tra tanti stracci. Ma neppure. Altri, infatti, tengono alto il prestigio sottraendome nell'incombenza grazie a una dichiarazione di morte presunta alla quale acconsentì per un'ultima generosa manciata di soldi, puntualmente volati via come rondini nell'altra montana di ottobre. Qualcosa però posso fare per voi. Vi lascio il mio bastone animato con manico d'argento. Tenetelo in mio ricordo, magari a turno, così io chiorresti ancora un po' in vostra compagnia. Nel manico che si svita c'è un bel brillante, a lungo cercato in famiglia e poi creduto disperso. Son io che l'ho sottratto all'onta di figurare sulla pelle squamosa e unta di mia cognata. Immaginavo per lui una migliore sorte e l'avrà. Infatti, saprete ben voi quanto più ricavarci per delle belle saziate in mia memoria e alla salute del mio nobile parentato. Vi confesso che l'avrei fatto già io se l'egoismo di sopravvivere nel cuore di qualcuno non mi avesse comandato diversamente. In cambio, vi chiedo il sacrificio di comunicare adesso la mia dipartita perché cessi definitivamente ogni timore di scandalo. Della mia salma, tuttavia, sia la comunità a darsene pensiero e che mi interri là dove le tombe sono appena accennate da cumuli fioriti, da erbe campestri e di papaveri ad ogni primavera. Non esporrò così alla giusta derisione la mia posa fissa nei tempi mutevoli. Ne assisterò il discendente lontano far fagotto nelle mie ultime ossa e disperdere di soppiatto tra i rifiuti per farsi spazio tra i loculi di famiglia. Disposto fin qui dei debiti morali e delle cose materiali posso al fine vomitare con sincera commozione gli sfilacci di un romanticismo mal digerito, i cosiddetti pensieri nobili, gli svolazzi che gli studi giovanili hanno irrimediabilmente avvitato nel mio animo e nella mia mente. Vi lascio in parti uguali il parco e la mia panchina preferita, i ponti, gli alberi con gli uccelli e il fiume, così come li ho ereditati da Dio, con l'obbligo di fare altrettanto con chi più amate. Vi lascio la città con i suoi giocattoli e le persone che vi corrono dentro. Vi lascio l'aria che non respirai mai abbastanza, il giorno, la notte, il sole, la luna, le stagioni e i giorni dell'anno, tutte le emozioni che essi mi hanno fatto pulsare nel petto e infine la mia profonda fede che l'aldilà sia esattamente così, com'io lo desidero, nemmeno più bello. Ho amato disperatamente la vita e le persone col solo torto di averlo fatto sempre a modo mio, non sempre gradito agli altri. Se pure con riluttanza chiedo scusa di questo e di quant'altro fastidio abbia involontariamente procurato il mio veloce passaggio su questa terra. Sono in pace con tutti e credo d'esserlo anche con Dio, al quale, se può e vuole ascoltarmi in quest'ora solenne, rivolgo la preghiera di condannare a rogo eterno tutti quelli che in ogni età e in ogni luogo non hanno saputo apprezzare e gustare a fondo come me il prezioso dono della vita. Qui termina l'ultimo monologo di un ex barone, di un ex marchese, di un ex uomo vivo. È giunto il tempo che io vi tolgo il disturbo. Vogliate perciò gradire il mio cordiale eterno silenzio. Grazie. 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 dei tetti, costruzione di due bagni, uno a Baiano e uno a Mugnano, fogne per scarico delle acque bianche e liquami senza badare in quale comune. Spero perciò che venga giustificata la mia riconoscenza e prego Nicola e Gaetano di andare sempre l'amore d'accordo con le proprie mogli per godersi le proprietà. Spero infine che anche il sindaco di Baiano e il sindaco di Mugnano si accordano finalmente per spostare il confine. Grazie. Grazie. Se esco vivo dalla bara. Disposizioni testamentarie irrevocabile. Questo è l'ultimo mio testamento olografo. Prometto di non farne più e annullo gli antecedenti. Credo, spero ed amo Dio mio creatore e redentore e spero che San Giuseppe, per il quale tanto ho speso e faticato in vita mia, voglia presentare la mia anima al trono della misericordia del suo figliuolo con un poco di amicizia e senza scherzi. Istituisco erede universale mio nipote Albino Fuluigi, di tutta la proprietà stabile e instabile, mobili, fondi, denaro, diritti, azioni, terre, come mi appartengono se mi appartengono con la preghiera di essere sempre religioso e virtuoso e di rivolgere le sue attenzioni ogni tanto anche al mio San Giuseppe. Io ho molto faticato e molto lucrato nella mia lunga vita sempre con l'aiuto di San Giuseppe e se adesso lascio poco e piccola la mia proprietà è perché ho dato e beneficiato sempre tutti i miei parenti, la mia cara chiesa e la congrega di San Giuseppe. Non lascio legati, messe o funerali. Il mio erede che mi ha amato e stimato in vita si ricorderà di me con la famiglia dopo la morte. Voglio e pretendo solo che sia fatto quello che ho ben spiegato e chiamo al testimone del mio desiderio la misericordia San Giuseppe e tutti i santi, oltre che la coscienza del mio erede e della mia beneficata famiglia. Dopo che la mia salma è stata esposta e prima di interrarla, nella barra speciale che mi sono fatto fare per l'occasione dovete metterci due litri d'acqua minerale non gasata, un pacco di friselle, la dentiera, la pila magnum con le pile cariche e il walkie-talkie per chiamare mio nipote nel caso che mi sveglio dalla morte apparente come già a me è successo una volta mentre ero sul letto mortuario. Troverete tutto questo già preparato nel mio comodino. Faccio poi obbligo a mio nipote, erede universale, col quale abbiamo già fatto tutte le prove, di rimanere sintonizzato con la mia salma interrata giorno e notte almeno per 48 ore. Se mi sveglio e lo chiamo e lui non risponde gli mando l'anatema e nessuno potrà per questo condannarmi, nemmeno San Giuseppe. E se poi esco vivo dalla barra gli tolgo l'eredità a lui e a San Giuseppe, così avranno più tempo per distrarsi. Non ho altro da aggiungere se non baci e abbracci e la speranza di lasciarci più tardi possibile. Nella bara non dimenticate la dentiera a portata di mano. Grazie a tutti. New York, USA, 15 ottobre 1959. Cari eredi, figli e nipoti, a seguito delle mie precedenti disposizioni olografe, preciso che i pezzi di terreno che vi ho lasciato per testamento olografo includono anche le strade. Dichiaro che nessuna di queste mie proprietà terriere che ho lasciato olograficamente possono essere vendute, ma devono essere dati agli eredi degli eredi. Poi dono e lascio la somma di un dollaro a ognuno dei miei figli e nipoti e non di più, poiché la mia defunta e adorata moglie italiana ha già provveduto per ciascuno di essi. Conoscete bene le ragioni del mio abbandono familiare, non per disamore. Mi dico anche sì che qui ho un'altra famiglia con due figli vostri fratellastri, ma che nulla ci ho fatto toccare della proprietà italiana, non lo sanno neppure. Per loro ci penso coi profitti locali. Vorrei abbracciare, ma non posso tornare nella cara patria anche se lo vorrei. Voi lo sapete come ho sofferto e soffro per questo. Se volete venire qui vi accoglio con le braccia aperte e cuore paterno. Qui ormai ci sono pochi delle nostre parti. Spesso sto in compagnia di Pasqualino Iantosca detto si bemolle, barbiere di Fiorino che era pure sarto e musicante alla banda del paese. Qua fa solo il barbiere in un bel locale di proprietà a sei poltroni. Acconcia i capelli anche alle donne e ai ricchioni. La trombetta ce la suona la domenica, ma ormai si è sfiatato. Sta emigrando qui pure Filippo Nardillo di Montefredane. Oh signorino! Sarangia Maluccio non ha più nessuno. Racconta a tutti che al paese suo lo chiamavano Don Filippo e si scappellavano con l'inchino. Non lo stiamo a sentire, ma gli americani se ne fottino. Noi lo stiamo a sentire, ma gli americani se ne fottono. E poi pure noi ce ne fottiamo. Ogni tanto capita qualcuno di passaggio alle nostre parti, napoletani, calabresi, siciliani. Gli offriamo da bere per avere notizie e parlare la nostra lingua. I nostri figli la parlano poco, non si capisce niente. Ormai parlano americano. A noi quando parliamo non ci capiscono bene né i figli né gli americani. Perciò parliamo fra di noi, ma poco. Non sto male e nemmeno bene. La salute mi accompagna ancora. Dichiaro che per il mio testamento siano solo considerate e seguite la legge dello Stato di New York USA, poiché sono ormai cittadino americano. Io testimonio che questa è la mia mano che scrive la firma. Salutatemi a chi si ricorda ancora di me. Applausi 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 Non ci stanno medicine. Mia cara mamma, schio dall'ospedale da campo, ferito grave da un'azione volontaria. Non ci stanno medicine. Il capitano ha detto che se muoro la danno a te. Tu la fai vedere a tutti. Non lo dici che non ci volevo andare all'azione per un presentimento. Vorrei tornare a casa per raccudere le bestie. Tu sei vecchia. Se non torno, Stella è libera di maritarsi. Le lascio il casamento, le bestie e la terra nostra. Stella deve avere cura di te, sempre. È meglio però se aspetta un poco. Se ce la faccio a tornare, la sposo. Ci voglio bene da ragazzo. C'è un polentone che mi aiuta. È uguale al nemico, ma è amico. Dice che te la portiamo insieme, la medaglia. Io credo che viene solo lui, perché è più fortunato. Se viene, si chiama Daniele Berto. Facci conoscere a Stella. Un bacio e un abbraccio forte. Applausi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo l'uso Da bambino, ora che muoio vecchio, ho fatto tutti i mestieri inventati. Spaccapietre, garzone, manovale, giovane di barbiere, emigrante, cameriere, coltivatore, tanti altri, fino a meccanico con officina propria. Con questi sacrifici e null'altro sono arrivato a possedere qualcosa che ora mi testo da solo per evitare questioni anzitempo. Al primo figlio maschio, avvocato, lascio l'appartamento sopra l'officina. All'altro mio figlio maschio, meccanico, lascio l'officina con tutta l'attrezzatura e lo spiazzale davanti. Alle figlie femmine lascio tre milioni ciascuna. Non dico tutte le cose di affetto e di benedizione perché già si sanno, poi non ho la passione della scrittura. Ho fatto la terza avviamento due volte, prima di andare a faticare per la famiglia numerosa. Perciò dico solo che ho diviso secondo l'uso del paese e non per capriccio. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mirko Ghilardini. Salvatore De Matteis è un libro meraviglioso. Grazie.